Mr. Geoffrey, dando uno sguardo alla classifica, sicuramente un po' preoccupa, però la strada da percorrere è ancora tanta e c'è possibilità di risalita. Noi possiamo risalire solo se ci crediamo. Se siamo convinti di potercela fare, secondo me ce la possiamo ancora fare. Il campionato è ancora lungo, non è detta l'ultima parola, però l'importante è che noi prendiamo quella convinzione e quella consapevolezza che ce la possiamo fare. Diciamo che pure gli episodi non ci vanno a favore, due partite abbiamo perso punti al 94-96, oggi due calci di rigore nette, non dati perché scarati secondo me oggi, che è un bravo arbitro, ha preso la giornata storta e dobbiamo sperare pure anche in questi episodi che diventano positivi.